Il Gallo ha appena annunciato l'inizio di un nuovo giorno? Io sono piena, io sono piena perché ti giuro, c'ho tipo l'ATP che mi dice tu vuoi lamentate e io nutrirò i muscoli delle corde vocali per essere lamentosa. Allora, prima di iniziare con le nostre POV più feroci, dobbiamo fare un piccolo disclaimer, perché se sei un nostro ascoltatore e ti è arrivata una notifica in un orario un po' strano e diverso rispetto al solito e non sai il motivo, ti diciamo amo, esci dalla grotta, c'è Sanremo, secondo te cosa stiamo facendo noi? Esatto, preparati perché arriva un audio che noi lo intendiamo un po' come un audio pseudo lungo dove diciamo cose. Esatto, quindi mi piace l'idea che qualcuno percepisca questi speciali di Sanremo, che saranno uno per ogni puntata, ogni serata di Sanremo, un po' come fosse un vocale di un gruppo WhatsApp. Nel senso, patatina, buongiorno, qui è mattina, noi siamo Banderas e tu sei la nostra gallina, che sei pronta ad ascoltare. Cioè, solo un problema non è mattina. Per loro sì, capito. Oggi Stefano stava a Malbarba, ha fatto dopo mezzogiorno, si dice buonasera, il fatto se ti internano sono cazzi tuoi. Comunque, nel senso, prima puntata della Kermess è passata. No, palle con sta Kermess. Sì, aveva deciso che avrebbe detto Kermess fino alla... Bello, ma dai, se cazzo dino... No, no, va benissimo, io sono felice. Quanto è super top. Sì, infatti mi sei giornalista. La vitamina K è quella che ti manca sempre, ti posso dire, perché te la nutri solo una volta all'anno. E allora... Sì, è finita la prima, probabilmente quanti minuti, 15 scarsi, la prima serata di Sanremo, condotta per l'ennesima volta da il nostro caro Amadeus. Che questa volta però mi conduce. Allora, partiamo un attimo dalla conduzione. Sì, lo show. Qui abbiamo una... Allora, noi siamo abituati ormai con Pova ad una conduzione di terra, ormai, sappiamo che comunque ci sta un po' due segni di terra che fanno... Ma qui c'era uno capricorno vergine che cercavano di... E capricorno eravamo era sick. Quante volte hai visto Mengoni, che non è come è successo in passato, comitando Amadeus, te lo stilla un attimo il posto, no? Che si mette a far parlare. Mengoni faceva... Posso? Sì, perché comunque lui era ospite, non era il padrone di casa, il padrone di casa era qualcun altro. Ah, sì, infatti, quello che ci tengo a dire è che Amadeus ha dimostrato ancora una volta che nonostante le dosette specifiche continue di cringe, è comunque un conduttore che proprio non molla, cioè non sbaglia n'acca. Non molla manco con le gag. È un treno. Perché se ci pensi, ne ha fatte la stessa 16 volte insieme al direttore d'orchestra che faceva non cominciare ora. Esatto, sì. Mamma, basta. Erano le 8 e 3 quarti e noi eravamo già pieni fino lassù. Pienissimi. Esatto. No, ma comunque c'è da dire che nonostante questo Amadeus, cioè, regge proprio la situazione. Tu l'hai mai sentito, che ne so, dire una frase per un'altra o sparare un modo di dire tipo noi che non sappiamo i modi di dire e a volte diciamo delle cazzate enormi in puntata. Ammo, da contratto... Cioè lui regge proprio la situazione, capito? So che non può sudare lui da contratto, cioè gli hanno detto Ammo, non puoi sudare, cioè le aspettative sono alte. Che se che è vero, io ad esempio suderei l'altra per i peccati di tutto. Sì, sì. Infatti lui è un po' così, quasi meccanico a volte, che tu dici vabbè, prima o poi la dice una sofeca e invece non lo fa mai. Però spezziamo la lancia a favore di Amadeus, che qua siamo tutte quante patatine che finché non ce li troviamo, per sbaglio, al karaoke dei paesi, con la tipa che ci fa fallo tu e noi... È così greve! Raga, quello conduce Sanremo in diretta mondiale, poi abbiamo scoperto oggi, giusto? Questa io approfondirei perché non mi è chiara, non ho trovato notizie. Credo sia in Eurovisione, però anche perché c'è la sigletta... È capito. Dell'Eurovisione, capito? Vabbè. Arriviamo alla ciccia un attimo. A parte questo, che ne dici tu? Cioè, noia o non noia? Perché lo so che vogliamo parlare di Angelina Mango, ma io intendo no. Il sentimento, ci siamo annoiati o no? Allora, tu mi vai subito sul frutto maturo. E mi piace comunque come si è fatto. Anche perché, nel senso, io sfido chiunque a sentirsi al suo agio con un abito maculato come il suo. Perché amo, io mi sono sentito un buon aggini di Harry Potter, visto che era tutta quanta un buon maculato. Ti posso dire la... Ma il coso verde, che ne pensate? No, amo, posso dirti? Lei era letteralmente Britney Spears in Slave for You. Cioè, perché il coso verde sembrava il boa. Io stavo lì che facevo Ama Slave. Infatti, va bene, fanculo, parliamo di Angelina Mango, che a quanto pare è nelle top... Almeno nella mia top 5. E nella top 5 del... Veniteci, anche della sala stampa. Che diciamo in un attimo, quella è la top 5 della sala stampa. Numero 1. Loredana per te. Numero 2. Angelina Mango. Numero 3. Annalisa. Chi c'è? Annalisa, giusto? Numero 4. Diodato. 5. E quinto, Mahmood. Poi diciamo anche il sesto, che è Parico, che ha completamente... Raga. Ha beccato tutta la top 5. Con questa cosa... Preciso. Mi sta veramente... Melinda Gordon e questo tuo sentimento ultraterreno. Amo, ma chi sei? Io lo so. Come cazzo hai fatto? Vabbè, no, ho un po' letto anche un po' di indiscrezione della stampa. Si sapeva che il trio... Cioè, la top 3 fosse femminile. Era una cosa che la stampa l'aveva mezza fatta capire. Nelle classifiche, sai, quelle stime che si fanno. E la Bertè viene data da vincitrice per la stampa già da una settimanella. Quindi di lei ero il più sicuro di tutti. Quello che mi stupisce è proprio il frutto esotico. L'Angelina Mango. Sì, aspetta però. In tutto questo discorso. Partiamo un attimo dal presupposto. Abbiamo sentito Angelina Mango nominare le parole inizialmente Amadeus attraverso... No, attraverso no, che è... Col coprodotto con Madame e con Dardast. Quindi già tu un attimo amo. La mina te l'aspetti. Esatto. Poi mi diparte quel noia, noia, un po' ripetuto, bittato. Amo. Ma poi mi impara con la spalla. Lei che mi mostra la clavicola perché è una studica. Ti giuro, muovi la spalla, io sono tua. Cioè, capito, io mi muovo con te. E lei ce l'ha un po' dimostrato. Quindi sicuramente almeno fra quelle più interessanti siamo tutti, penso, d'accordo in questa stanca. Oltretutto, che oltre ad essere in buona premessa, mi spezza un po' il mood di quello che abbiamo visto essere un po' le donne in questa stagione. Cioè, mi vestono black. Ecco, infatti, uno dei discorsi che di cui durante la serata ne abbiamo parlato veramente tanto è la scelta cromatica delle ladies. Perché, raga, effettivamente erano tutte di nero. E il trend, la prima che l'ha fatto notare, secondo me, è stata Annalisa, che ci ha un po' stupito. Cioè, voi ve la immaginavate vestita così? Cioè, adesso. No. Sì. Allora, no, no, anche a me è piaciuto. Pensavo però la vestessero esageratamente femminile. Cioè, capito, buttassero proprio sulla femminilità. Che è una cosa tristissima da dire, lo so. Però è comunque Sanremo, capito? Però guarda che era molto sensuale. Stupenda, eh. Eh, però capito, non c'aveva il vestito, ma era tipo una tuta, sembrava una tutina, no? Una guanzi. Era slattishic, secondo me. Esatto. E che è un po'... Slattishic. Slattishic. Che è un po' la direzione che sta prendendo da bellissima. Che è come quando ci mettiamo un crop, pure se ci abbiamo i peli sulla panza. Ah, ma quella è slattishic. Sì, sì, sì. Quella è slattishic. È verissimo. Infatti, non c'è, non ci ha stupito come scelta stilistica, ma pensavo comunque la buttassero su un po' più de romantico. Invece l'hanno fatta molto disco. Che ne pensi di Sins, la canzone di Annalisa? Di Annalisa, sinceramente. Allora, io ti dico, mi fa ammattire il fatto che la maggior parte delle persone l'hanno resa Relatable Cozzizzi, il che mi fa pensare che abbia dei capelli top, ma lasciamo stare. Cazzo, si girava, spostava la luce. Raga, ma che capelli Annalisa? Sì, sembrava il sole, cavolo. Che lucentezza. Allora, a me è piaciuto. Capelli. Ci siamo abituati a lei in una versione in cui tu mi stai per sparare l'hit, e io so che comincerò a muovermi al ritmo della tua canzone nell'arco di due, tre massimo serate. Anche perché con bellissime, tutto il retro e le canzoni che ha fatto, ci ha insegnato che amo, io ti posso far ballare, io ti posso far piangere, ti posso far riflette, oltre a fare la scanza fatica in estate. Quindi ti dico, mi piace, però diciamolo anche, siamo un po' alla prima puntata. Cioè, oltre a un po' di svenevoli dicendo che siamo stati il capezzolo che ci ha fatto ballare, ma io attendo ancora di essere un po' indusiasmato. Quindi ti dico, pazzesca, Annalisa, ma io ti chiedo, secondo te, la ricanterai sti giorni? Io sono un po', allora, parto dall'idea che io, Annalisa, era quella che forse aspettavo di più, è il mio caposquadra nel Fantasarremo. Cioè, sono un po' una bimba di Annalisa. Vi devo dire, io al primo ascolto sono un po' strano. Cioè, nelle canzoni devo entrarci. Quindi, quando li ascolto in un contesto così, poi siamo insieme, parliamo. Cioè, abbiamo, raga, un gruppo Telegram dedicato a POV, che non è un gruppo, cioè, sembra veramente di stare al campo scout. Quindi, a un certo punto mi distraggo e esco a volte dal momento ascolto. Vi devo dire, Annalisa, nel primissimo, primissimo ascolto, non mi odiate, ho pensato, forse mi aspettavo qualcosina di più. Cioè, un po' meno scontata. Invece è molto quello che ci aspettavamo dalla Annalisa Dance. Sono sicuro, però, nonostante questo, che dopo domani mi vedi a testa di in giù e ti dico sinceramente tua. Questo sicuramente. Però ci metto un puntino, vi dico, ok, ci penso un attimo. Cioè, la voglio di ascoltare. Perché mentre la canti mi vai a prendere col mignolo quel cavo elettrico con cui tieni il telefono e mi cadi. Però ti posso dire, preferisco quasi ballata, lo sai, Emma? Ma parliamo anche di lei. Emma ha fatto una bellissima performance, cioè, una bella situazione. Ragazza castana! Infatti, poi, con questo, c'è avuto un cambio look. Insomma, è proprio un periodo positivo. E soprattutto si è posta alle interviste fuori da Sanremo, prima, insomma, in tutto il contesto Sanremo in maniera molto simpatica. Cioè, quindi, guarda, è proprio una di noi, Sanremo... Eh, sì, Sanremo. Emma ci piace. Sanremo? Sanremo ci Emma. Posso dire sinceramente una cosa? Allora, raga, parliamo. A me, chi dice il fanta Sanremo, però sta rovinando Sanremo o cose del genere, è lo stesso di chi dice Sanremo è per vecchi. Cioè, siete voi che lo rendete vecchi. Quindi accettiamo il fatto che il fanta Sanremo è tutto ciò che c'è dietro, da termostato con i The Jackal, è tutto ciò che rende ancora più interattivo qualcosa che deve essere svecchiato. A me, Emma, piace pure per quello. Perché si fa inseguire dalla polizia, perché comunque... Lo fa per il meme. Lo fa per il meme, capito? E poi mi serve. Mi serve una canzone di questo tipo dove mi fa capire che amo, ma ti giuro, io commenterei solo il fatto che diventa da castana. Quando le sta bene. Sta proprio bene, sì. Ma altri che lo fanno per il meme, il meme sono i ricchi e poveri. Madonna. Raga, siamo d'accordo? Per me top. Sono arrivati fiocchettati. Cioè, dai, li amo. Sembriamo io e te, cioè, se mettono su una canzone un po' movimentata, potremmo fare una cosa del genere. Lei mi sembra troppo... È presente quando da bambino fai i disegni dove non fai il busto alle persone e gli disegni con lo spacco delle cosce che sta premendo in gola? Lei non aveva il colpetto. Che paura. Daniele è sempre così specifico che... Però è ultimamente l'immagine di questo. È quello che è, sì, sì. E poi lei mi sembrava... È tipo te lo swift. Le amiche di mia amica andavano a fare il giro pizza, che magari vanno un attimo su di giri, e lei era troppo felice. Cioè, amo, sono contento che ci sei. Mi sembra tipo quel retaggio dove facevano gli artisti. L'importante è che sorridi. Amo dopo un po' e anche anni. È tipo mi sento euforico però nella vita vera, capito? No, è tipo aranzulla, capito? È uguale, è vero? Sì, sì, sì. Il mood è quello. Un altro invece... Aspetta. Dava, la sed. Infatti, un altro... Magò. Possiamo citare il meme anche per la sed. Io vorrei chiedere a quei tre guaglioni quanti minuti prima dell'esibizione hanno finito la tinta. Perché, cioè, raga, brillavano quei colori dei capelli. Amo, erano i cattivi del corpo umano. Erano quelli che... No, amo, aspetta, capito. No, le super... I super cocchi. Amo, le super... Le super steppococchi, perché se prendiamo anche il corpo umano... I cattivi del corpo umano. Daniele, i cattivi del corpo umano. Quelli con... Quei che... Con le cose strane. Ha capito, sì, i cattivi del corpo umano. Lo steppococco, probabilmente, cara. No, allora, non m'hanno fatto impazzire, ma soltanto perché mi è piaciuto il messaggio che hanno mandato. Raga, comunque sono stati, a parte tra i primi, però si sono schierati politicamente anche in maniera molto forte e bella, quando l'ho visto che l'hanno fatto un po' mi sentire in colpa perché sapevo che non avrei detto una cosa positiva su di loro. Perché mi devo sentire in colpa? In 2024... Tranquilano. Questa cosa. Ah, pensavo fossero più cattivi. Invece, in realtà, hanno questa apparenza cattivi, molto cattiva, un po' così, ribelle, ma non hanno fatto i ribelli, siamo d'accordo. In questa song. Esatto, in questa circostanza. No, no, pensavo si mostrassero proprio sul palco, a livello proprio performativo, proprio più sopra le righe. Invece sono stati coi capelli dritti e colorati, ma anche piuttosto tranquilli. La canzone, invece, è carina. Cioè, mi è piaciuta. Molto. Mi sono divertito, mi ha intrattenuto e il messaggio c'è stato. Pensavo, cioè, credo che da fuori fossero percepiti come, oddio, ma questi adesso? Cioè, io avevo paura di vedere l'esibizione della SED senza aver ascoltato la canzone, immaginandomi in una stanza, tipo, che ne so, con mia zia. Tu senti un po' il cringe, senti un po', come chi lo spieghi, cosa fa. Invece non c'è stato bisogno di spiegare niente alla zia, secondo me. Concordo. E questo è comunque un merito, cioè una strategia anche della SED che ha funzionato in qualche modo. Ti posso dire, invece, accomunerei due che a me hanno fatto un po' strano. Cioè, e allora, in Egramaro, dove c'è il cantante, Giuliano, che non ho capito che nella sua Marina Abramovic c'era. Non so se l'hai visto entrare. Amo, quella era una performance. Lui non stava. Lui era... Amo, racconti Dracula. Lui era coinvoltissimo. Poi Marco Mengoni dell'anno scorso, con le tutine a rete, ha fatto il panico. Quindi Mochiung fa questo effetto vero o non vero con la schiena. Posso dire, mi piace. Spacchettano il collo e vanno... Ritorniamo un po' a dove l'immagine me la devo figurare nella mente. Mi piace. Ma il comeback di Enegramaro? Perché Daniele, voi sapete, se ci ascoltate, sapete che Daniele è un po' un fan della prima ora di Enegramaro. Vi ha le mani dagli occhi. Che ne pensi del comeback? Perché sono un po' il comeback di questa stagione, come l'anno scorso ci sono state Paolo e Chiara, quest'anno il comeback è quello di Enegramaro. E che boh, delle volte penso che non mi riesco a svecchiare dall'idea che io ho di certi cantanti. Cioè non è che non accetto il fatto che possano cambiare, ma qui non si sta parlando di Ariana Grande e mo' dico una cosa che ad esempio cambia stile di volta in volta. Qui si sta parlando che sono passati 347 anni. Always. Capito? It's been made for years. Capito? È come quando i sonora mi ritornano. Amo, non ne ho mai sentito l'esigenza. Non ho capito, ok. Capito? Il Tokyo Hotel, io stavo bene anche prima. Sto bene anche adesso. Non mi ha azzardo. Non mi ha azzardo. Però ecco, il concetto è quello. E invece no. Diodato, volevo chiedere. Diodato, una cosa. Ma bello è il cospea di Fulminacci? Ma l'hai notato? Uguale? Un po' più alto. Anche un po' più grande. Pensava Fulminacci è giovanissimo. Era uguale. È vero, sì. Lo ricordo molto. Sembra Fulminacci. Alcione della serata delle cover c'è, quindi magari si incontrano. Ti prego. Il meme di spazio. No, ma soprattutto Diodato, ci aspettiamo premi, critica, testo. Mi sa che è in aria da vincita. Ma attenzione perché anche c'è la Mannoia, la Bertè, che secondo me razziano anche queste cose. Elisa Mannoia? Scegli tu, perché per me la Mannoia era Elisa. Amo, quando vai scalza tu mi stai mostrando le orme di una ragazza più grande di te. Allora, però, oh, ma quasi, qua mi dicevano... Non penso a cinque punti al fantasi al remo. Oh, brava, prendi e porti a casa. Ci credo, dopo che hanno preso i funghi pure quelli che cambiano i pianoforti, perché c'è... Io guarda, viva Fiorella Mannoia, ha fatto una bella esibizione. Il vestito non mi è piaciuto moltissimo. E poi non era assolutamente azzeccato. Esatto. Lei si stava sposando con il palco, raga, lei si stava sposando. Era matrimonio. Un po' nera, perché dovete sapere che ci fa la grafica, ma in realtà ha quella puntina di styling anche all'interno del gruppo di POV, e ha proprio detto, raga, io la vedevo vestita di rosso o di verde, e siccome era vestita di bianco abbiamo cominciato a dire Forza Italia, non lo so, dove stiamo andando? Forza Italia. Dipende, la punteggiatura è importante, eh, Sandro. Punto di domanda. Però devo dire, oh, a 70 anni, guarda che cazzo di roba che ti ha messo su la mannoia. Ora, non so se è 70 veramente, ma credo che più o meno siamo lì. Sì, 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 sì. Stavate che c'era tipo 12 e io dopo... Ora, io, tipo, spostiamo l'attenzione sui team piallati, dove io faccio rientrare due nello specifico, che sono Mahmood e i The Colors. Che gli è successo? Il team piallati, perché, allora, Alessandro, e non parlo di te stavolta, ma parlo di Mahmood. Allora, attento, perché c'è Martina Magliel. No, no, amo. È solo sbarbato. Non è sbarbato? Io voglio chiedere a questa ragazza se mi salta i passi, innanzitutto, perché era molto magra. Ma no, parliamo, è cambiatissimo. Era magrissimo. Sembra un ragazzino tipo Maranza. Scusate, state gridando alla chirurgia estetica? Assolutamente no. No, no. Ti sto dicendo che, ma beh, amo può anche essere truccato, era tipo cerato e sembrava Maranza. Allora, infatti... Questo è stato il commento che abbiamo... Del Maranza è il commento principale che abbiamo ricevuto su Instagram. Non solo Maranza, ma anche targato Bershka, perché a me comunque... A me tutti quelli... Amo, chissà, c'era quel... Che era una giacchetta? Sì, 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 è tipo... No, ma sì, penso sia stata una giacca, ma mica me lo ricordo benissimo. No, un gilet, era un gilet pompato di acetato. Sembrava un bomberino, un bomberino così. Un bomberino. Sì, sì, sì. Allora, però posso dire, Mahmood... Io pensavo... Bellino, guarda. Eh, nel senso, io credevo... Pensavo molto, molto peggio. Quando avevano detto, no, anche quest'anno c'è Mahmood, ho pensato, ma dongo, no? Cioè, ne sentiamo il bisogno. Oh, invece tutta gold a me mi è piaciuta, raga. Lui bravo. Cioè, ci ha ricordato un po' poi il periodo soldi, che a me è sempre un po' mancata, capito? E secondo me l'album sarà in sonorità primo album. Cioè, si allontana un po' da Ghettolimpo, infatti si chiama il secondo, e ritorna, mi sa, un po' a... Non mi ricordo il nome del primo album di Mahmood. Gioventù Brusciata. Secondo me siamo un po' più in quell'atmosfera e mi piace. Però ti posso dire, a me non è partito benissimo Mahmood in questa... Cioè, nel senso, ha dovuto aspettare il tornello. Quasi tutte le canzoni che ci stanno, quella di Emma, quella di Annalisa, cioè, partono che sono... Ok? E poi a un certo punto parte questo beat assurdo di uno, due, tre, alza. Cioè, sempre quella cosa lì pazzesca che... E beh... Una a caso, eh. La Elo ci insegna e ci rinsegna come dovremmo agire in questo mondo. Tra l'altro, lei che ci fa... Che si mostra anche nelle pubblicità, perché deve far capire che comunque lei, in qualche modo, a San Ramon c'è. Io l'adoro. No, ma a proposito di ritornelli che ti sorprendono e ti prendono, e poi ti sparano, Click Boom di Rose Villain. Allora... Raga, sono confuso. Allora, posso dire... Io sono un po' confuso. Allo stesso... Allo stesso tema che ti ho detto adesso, cioè, di quelle canzoni che hanno due ritmi diversi e due sonorità diverse, però non mi prendi neanche un minimo talvolta nella parte iniziale. Eh, lì c'è veramente... Allora, secondo me hanno giocato molto sullo scollamento, capito? Tra il primo e il secondo, la prima e la seconda parte, insomma. Però si torna molto spesso indietro, secondo me. Quindi un po' un attimo che ti abitui al 1, 2, 3, alza, che ritorni invece alla sviolinata di orchestra. Esatto. E un po' mi dico, cosa succede? Cioè, se mi... Immagino, alla guida della macchina e ascolto Click Boom, un attimo faccio la Slutty Chic come analisa, e poi ritorno un attimo serio, e poi ritorno Slutty Chic, cioè, un attimo mi piano delle convulsioni. Però non lo vedi che se l'ascolti in macchina con qualcuno, quando ricomincia la parte dopo ritornello, quello rifà, perché cambiato canzone? Mi rimetti l'altra? Cioè... È vero, io stavo... Scusate, stavo... Non stavo parlando forse della main... Allora, allora... Allora. Allora, Martina Maiello ha lanciato quella che potremmo dire un po' un motto, un claim che rivendico e vorrei fosse proprietà intellettuale di POV, perché Martina Maiello durante la diretta di Sanremo ha detto, fino a una certa, ma sicuro non fino a qui. Che vi posso dire? Un po' è vero? Allora, cioè, da... Quanto odio. Ma è la prima volta, Sanremo? Sì, si ha solo fatto ospitate e cose, ma... Allora. Prima partecipazione. Lei rientra all'interno del trittico del Mi Vesto di Nero e tesoro, l'abbiamo visto uscire Alessandra e le abbiamo detto, amo, io mi sento amoroso nei tuoi confronti, perché sei in top. Sta benissimo. Come non mai, quel capello, mi piace, un po' Chiara Galiazzo, cioè, gli dava un po' queste vibes. Però non è partita, raga. Cioè, non mi ha coinvolto, ero già pronto alla memata. Alcuni me la so segnata, l'avevano detta che era lentamente cago giù da un grattacielo, forse dovrebbe uscire un po' la memata di questo tipo. Ritornerà. Io, cioè, merito canzone proprio, stiamo sulla parte musicale. Io vi devo dire che sapevamo, insomma, che fosse una canzone, una down tempo, più lenta. Una? Down tempo. Down tempo. Cioè, no, up tempo and down tempo, capito? Cioè, che sarebbe stata, insomma, più lenta, un po' più introspettiva e soprattutto improntata sulla vocalità. Cioè, su far emergere il fatto che l'amoroso ha una bella voce, insomma. Ci sono riusciti. Cioè, secondo me, l'obiettivo di far capire che la tipa ci performa bene, ce l'abbiamo fatta. Cioè, è stata brava. Se biai caffè a castello con lui, Alessandra. Absolutely. Ma anche io sono, un po' mi accodo sul fatto della canzone, perché quando fai una bella ballata intensa, a te aspetti di struggerti come ti struggi magari con, o ti distruggi con Diodato, capito? Fai rumore, è un po' la ballad che tu dici, sì, cazzo, che emoziono. Ma no, non lo posso sopportare. Capito? Eh, capì? Vabbè. Quello poi... Sull'amoroso pensavo ci fosse questo momento che tu dici, sì, mio Dio, ma ci piange. Non è ancora arrivato. Che è tipo quella ultima canzone, sì, esatto, quando fa quell'urlo, ma ti ricordi Immobile dell'amoroso? Lasciati. Quello, io pensavo fosse così. Alessandra. Eh, no, meraviglioso. Io posso dirgli, anche io ero un amorosino, perché adoravo... Un amorosita, Samo, perché eri un po' peperita. Per me Immobile è stata meravigliosa, però ecco, non c'è, invece, dato che ne parlavano a livello di stampa come una Immobile 2.0, mi aspettavo più coinvolgimento emotivo. Non c'è stato, bella performance, vediamo se ci cresce con gli ascolti. No, dicesse bella per te, tipo... Ma, totale. Però ecco, io anche io li metto un po' tra i floppini. Ma do, posso dirti, però, che angoscia arrivare a Sanremo come l'amoroso con così tanta hype da parte... Cioè, anche noi che magari non la seguiamo, io non vedevo la rivederla, perché volevo capire di che pasta potesse... Però mi dispiace. Totale. Perché arrivare in un contesto come Sanremo, sapendo che c'è una grande fetta di pubblico, che amo, vuole quello, si aspetta una certa cosa, cioè, che angoscia. Però posso dirti, i The Colors, amo, io ti posso dire, io obsessed, con quel moto lì un po' a tergicristallo che fanno un ragazzo e una ragazza, guarda lì c'è la spazza. No, mi fa mattire. Mi dite, voi due, che pensate? Perché sennò sembro io quello cattivo. Eh, esatto. Oh, baby dance. Allora, io ho un po' pensato... Tutti che ne balla a me di Dargen, eh, Dargen. Dargen, amico, infatti... Non ce lo faremo mai. Eccoci, arriviamo. No, ma, rimaniamo su The Colors, poi passiamo. Io ho un po' quell'idea, ho pensato, magari è febbraio, credono che il carnevale sia vicino, hanno fatto il balletto per il baby dance. Quindi, no, 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 per me, no. Non lo so, non... La canteremo tutti. Esatto, infatti è di quelle canzoni che ci stiamo solo preparando alla fine dei nostri timpani, perché comunque si vede già che è partita la cosa dei ditini, delle cose. Altro tormentone, presunto tale, dicevamo Dargen, amico. Io l'aspettavo tanto, Dargen, perché dopo dove si balla, cioè, ci aveva fatto capire che comunque c'era, insomma, se poteva... Eh, esatto, cioè, sì, sì, era secondo... Il mondo fu rientusiasto, comunque. Totale. E soprattutto possiamo dire, ci siamo coltivati un po' Dargen da X-Factor, perché abbiamo visto che comunque quando mi assume la sostanza mi è divertente il ragazzo di panza, perché amo Dargen ogni tanto veramente va di fuori. Dargen! Dargen, è perché sono andato fuori io stavolta. Allora, Dargen... Sicuramente ha creato un manifesto per la comunità ursina, possiamo dire, cioè, stavano tutti felici. Lui è di ursina, lui è di gaga italiano che si mette peluzzo. Esatto, adoro. Cioè, hanno usato, secondo me, bene questa parte sua molto ironica, molto divertente, sì. È chiaro che non vedo l'annovelarlo nella LGBTQIA+. Sono stati... A me la canzone è piaciuta, ad esempio, cioè, devo dire, non l'impatto come dove si balla, ma mi piace quando il tipo della hit ti dà invece un po' l'altra faccia della medaglia. Esatto. E questa cosa io l'ho apprezzata molto. Poi, a prescindere dalla posizione politica, insomma, che è sempre una bella cosa lanciarla, certo, è comunque Sanremo, hai detto una frase, cioè, quella cosa un po' lì, partecipo o non partecipo, non so cosa dire, però la canzone insieme, cioè, secondo me, mi è piaciuta, ma soprattutto crescerà anche questa con gli ascolti, secondo me. Non è stato l'unico, eh. Che ha fatto un commento. Esatto. A differenza dell'anno scorso... Gali. Ha fatto anche Gali. No, Gali, però, nella canzone parla un po', cioè, è un po', è un po' la seconda canzone un po' più sociale, capito? Un po' più aperta, sociale. Però non l'ha detto chiaramente, cioè, lui, Darjen, ha reso proprio specifico un momento prendendo parola, c'è stato più, ha fatto un passo in più. Senti, te ne tocco due, così facciamo un po' un, cioè, cerchiamo di toccarne vari, ma su punti di vista diversi. Amo, io ho Gali e Big Mama. Big Mama, amo, estetica da Ursula, tu mi fai urlare come una, cazzo di Laida. Adoro. E invece l'altro, che è una locata di frangente, di color cielo, ti prego, amo, sono una paillette, io dico sì. A parte fashion, intendi, entrambi, entrambi. Gali, forse, tra gli uomini, il meglio vestito. Però posso dire, anche San Giovanni mi è piaciuto vestito. No. Non mi è dispiaciuto. Da, a me quelle spalle che gli arrivano a... Cioè, una stava in provincia di La Spezia e l'altra di Genova. E amo, ma è un problema tu se non ti senti, è sicura, guida. Io ce la faccio, è un problema tuo se percepisci la difficoltà. Io ce la patente, io guido, non mi valle. E mi è piaciuto il fatto che finalmente non erano più, volano farfalle, ma vedevo una falena. Vedevo una ragazza che mi nasconde un segreto. Mi piaceva. Un bozzolo. Allora, e invece ti dico, parte musicale, Big Mama top. Cioè, secondo me, canzone carina, bel testo. Lei che viene dal basso, molto emozionata. E a me, Big Mama, per me top, ci piace. Allora, Alessa, non può essere un retaggio culturale difficile a farti cambiare ogni volta idea. Tu mi devi un attimo, sempre, guardati. Mi piace, però mi devi da modo di brillare. Nel senso, voglio ancora... Oh, siamo ancora la prima puntata. Cioè, sì, infatti, no. Tu già mi fai la demografica, guarda. I primi ascolti, questi sono, veramente, non sappiamo praticamente nulla. Io tantissime, manco me le ricordo, quindi figurati. Anzi, ci sono impressioni, no? Lo possiamo di tutti e quattro. Noi siamo pure un po' entusiasti perché siamo curiosi di vedere, anche come evolveranno le nostre idee dalla prima puntata. Raga, se io vi chiedo adesso, ditemi tre ritornelli, io vedo il silenzio. Io non mi ricordo. Dove si balla? E guardi, questo è un uomo, questa è una donna, i tergi cristalli. Come fa quella di The Colors? Un ragazzo, una ragazza. Però ci siamo, mentalmente ci siamo. Infatti, uno degli esperimenti che ce li siamo un po', abbiamo stabilito di fare nel corso di queste cinque puntate è chiederci un po' le preferenze con il procedere delle serate. Io ti dico, buttandotela proprio l'ischietta, preferenze, io ti ci butto. Angelina, analisa perché devo. E Mahmood ce lo mettiamo. Clara, a me mi è piaciuta tanto pure. Mi è piaciuta Clara. Sì, infatti, Clara, perché pure, essendo un po', cioè, sembra un altro giorno. A Clara e il tre dobbiamo un attimo, dai, era un altro giorno. Se fosse una citazione di una nota universitaria, pagina 8 e 9. Letteralmente. Anche Clara, interessante, secondo me crescerà un po', ma non so se... Ma raga, Irama, cioè a me non me ne frega un cazzo che tu la stai saltando insieme a Zizi perché stavate andando piano Delivero qua fuori. Io l'ho ascoltato e ho pianto. Esatto, io l'ho visto quando sei rientrato che mi hai fatto tanto Irama, non lo nominiamo? Amo, io sto pianto. Anche perché possiamo di Irama, uno dei pochi a cui l'estetica, capello bagnato, non mi fa sembrare il ragazzo un po' poco improfumato. Per me invece, lui sembra uno zuzzo. Ah, eccoci qui, uno zizzi dici. Uno zizzi? Uno zizzi. Non lo so, io ti posso soltanto dire che... Uno zuzzo? Una zecca? Ti posso dire che sono contento che due personaggi in particolar modo che hanno subito un po' delle dinamiche sfavorevoli a causa della situazione Covid, eccetera, che sono Irama e Alfa, sono entrambi presenti. Irama gareggiò da Smart Working. Morto, no, è proprio chiuso un camera, altro che Smart. Sì, erano le prove generali, quindi l'ultima prova generale la mandarono come esibizione ufficiale. Esatto, ha fatto tipo Tizianoferro che ha duettato nel salotto di casa con Elisa. No, amo, stiamo a fare le sceme, è una cosa importante, ci stiamo dimenticando di un po' quello che è stato il centro di una discussione lunghissima prima di Sanremo e a quanto pare sarà una delle... Dicono che sarà un po' la cenere di quest'anno, capito? Quella più streammata, più ascoltata dalle messe in radio. Io ti devo confessare una cosa. Allora, che a me Napoli mi fa un po' salire, mi fa salire l'avena, mi fa salire il cuore, mi fa salire... La passione. Mi fa salire, sì, cioè mi fa proprio che mi voglia di mangiarmi un cornicione ripieno, capito? E ditti un'altra, un'altra, un'altra. E quindi i pe te, tu pe me, o tutti insieme, com'era? I pe te... I pe me, tu pe te. E tu pe me, i pe te. I pe me. A me è piaciuta. Tu pe te. Cioè a me è piaciuto lui pure, a me mi dà un po' un sangue. Posso dire, mi piace il fatto che anche il dialetto napoletano e la canzone napoletana ti trasmettono qualcosa. Ma cosa capisci? Niente. Mamma, è come le canzoni in inglese molto spesso, che capisci? Non lo so, però mi va di ballare. Allora, il commento principale... Il commento principale dall'internet è stato, ma sembra una citazione quasi spudorata a Io per me, tu per ti di Rosalia, a livello di testo, ma soprattutto di titolo, non tanto per il testo in sé. E io ti devo dire, Jolien, l'ho sempre un po' visto come no, ma ti pare che mi può piacere una cosa del genere? Ho sentito qualche canzone ogni tanto, però non lo vedevo nel mio genere proprio, nella mia comfort zone. Oh raga, a me la canzone mi è piaciuta. Ti piacciono i guazzi. Eh, che ne so, a me mi è piaciuto. Allora, per lui va bene il plagio, però quando tu gli sei chiamato Motomami su Tinder andava bene. Eh, ma che era quello che abbiamo detto, regà? Questa canzone è proprio un'altra. Ah, Alfa, scusate. Alfa ha citato i War Republic e anche, dicevamo, cosa che era. Che cazzo era? Il mismo soul. Il mismo soul, bravissimo, bravissimo. Si fa per ridere. No, ma allora aspetta, un'altra che invece ha citato, che lo volevo dire, bella, è Fiorella Mannoia, che ha cantato Malo. Malo, Malo, Malo. Sei vero, sì. Cioè, Mannoia Malo ha cantato invece. Allora, ti posso dire che questa serata mi è piaciuta perché l'anno scorso che c'è stato molto drama, per me quest'anno c'è molta più ballabilità. Ballabilità, rispetto che al drama. Quindi nessuno mi ha spaccato delle rose, ne ho visto cose cringe, un qualcuna, ma vedremo perché secondo me sforneranno altro. Però io amo, so pronto a ballare. Cioè, mi sento bello carico a di... So curioso. Sai, secondo me cos'è? Cambieremo idee. Secondo me questo saremo... Palese, sì. Le cambiamo da capo proprio. Sì, sì, sì. Io ti posso dire, commento generale. Allora, abbiamo avuto un Mengoni conduttore un po' più fiacco. Cioè, nel senso, si vedeva che non era la sua cosa. Va benissimo così, eh. Cioè, nel senso, va benissimo. Ma sei stato con i pollori puberalli del minuto 1. Invece la performance... Allora, poi lui come persona, che ti devo dire, te la lancerei come manco fosse la mia. No, no. Ma soprattutto, cioè, che performance, raga. Mengoni si divora i palchi con una facilità. Cioè, bravissimo. Però, ascoltami, Isseleg che è anche una cosa che ho chiesto nel gruppo di Telegram. Però, tra la performance di Achille Lauro, quella che fece con tutte le scenografie di Achille Lauro, da lui, quella di Elodie, quindi ha anche detto la tua performance, si ricordi, dove ci ha insegnato che è stata lei a mangiare la mela al led. Quella cosa lunga fino al culo. Perché lei è il peccato originale. Stupenda. E invece l'ultima, questa qui che abbiamo visto adesso di Mengoni, quale hai preferito? Sei un infame, Daniela. Tra Mengoni, Achille Lauro e Elodie. Achille Lauro ha fatto un'opera d'arte. No, era... Achille Lauro. Io lo metto... Totalmente era debole. Esatto, io lo metto ultimo. E non ho fatto proprio di scenografie, di proprio come hanno portato la cosa. No, ma non lo so. Cioè, il mio cuore mi dice la Elo. Ma tu te la ricordi come era vestita con quella coda? Ti ripeto, lunga fino al culo. Sembrava Dua Lipa e faceva anche la metà, penso, degli ascolti che fa oggi. Quindi, veramente fantastica. Ha fatto un mashup stupendo. Mengoni vocalmente imbattibile. Cioè, lui, a livello... Come cantante, non puoi essere differente di fronte a un'esibizione così. È proprio coinvolgente, bravo. Cioè, le fa un po' tutte. E ha anche molta, molta presenza scenica, capito? Invece, i miei best, ti dico, sono probabilmente Mahmood, Irama, raga. Io ve lo dico. A me mi ha proprio colpito. Non pensavo, da effetti. No, no, sì. Ma anche quando fu i colori, cos'è che va... La genesi del tuo colore. Quella l'amamo, l'aumata. Amo. Ma io non so perché il mio cervello, Irama, proprio non... Ah, ora va fuori. A parte oggi, ma in generale non lo considero sempre molto, capito? Non lo so perché... Io non lo considero sempre durante i festival. Colpa mia, eh. Angelina Mango, Mahmood... Irama. Irama, e raga, io metto i The Colors solo perché... Eh, Daniele! Oh, ma che... Lasciate, glielo dai, raga. Cioè, amo solo perché fanno una ragazza incontrare un ragazzo. Oh, però, posso dire, sono stati bravi. Hanno preso la mia ADHD, hanno detto... Usiamola. Ma andiamo in palla, va a fa' culo. Magari sbancamo su TikTok e le ringraziamo i The Colors alla fine della fiera. Chi può dirlo? Io ti dico Angelina Mango, ti dico Mahmood e ti dico Annalisa. Quindi uguali solo che io c'hai Rama e tu c'hai Annalisa. Per dire tre, ad esempio. Poi, che vi possiamo dire? Ah, no, però in generale, secondo me, invece, serata piuttosto intrattenente, sì. Vi devo dire, raga, se vi annoiate un po' durante Sanremo, noi abbiamo la soluzione per voi. Abbiamo questo, ve lo ripeto, e anzi, vi invito ad aggiungervi a questa lega con Briccola perché abbiamo il nostro gruppo Telegram. Ah, ma a parte su Instagram, raga, facciamo una fracca di contenuti, sondaggi. Sì, sì, quest'anno ha detto voglio farvi vedere che le grafiche le posso fare anche meglio. Seguiteci su Instagram e se volete anche un intrattenimento ancora più completo, aggiungetevi al gruppo di Telegram. Vi linkiamo tutto nelle storie di Instagram e dove, raga, si parla bestia e vedrai come passa tranquillo il festival. Esatto, esatto. Soprattutto, no, siamo qui con voi anche per capire un po' come cambieranno i nostri gusti, come ci faremo un attimo sconvolgere. Da, è la prima sera così, chi vince? Tu mi dividi il primo così, boom. Angelina Mango. Anche in serio, io, sì. Nel senso, speri o quella che credi vincerà? No, 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 ma è uscita. A sensation anche per me, secondo me, vince Angelina Mango. Vince Angelina Mango. Mi è uscita, te lo giuro, cioè, se mi avessi, questa è la sincerità che parla, proprio dalle budella. Sì, è giovane, è brava. Io lo auguro, me lo auguro. Qualco. Sì, convengo. Cioè, per me è un buono Maleskin, capito? Sì. Lei potrebbe fare il quinto? Quanti cazzo sono i Maleskin? Quattro. Attualmente è questo, ma voglio ricredermi e voglio, no, sono curioso, voglio cambiare idea e soprattutto voglio che mi facciano urlare. È una chiacchiera. Credo vinca Analisa, spero vinca Angelina Mango. Tu? Secondo me, raga, Angelina Mango, però Clara? No. È brava, però capo di farle vincere il festival di Sanremo, secondo me non ha un testo così forte. Clara? Oh, tu? Non è che Angelina Mango, ecco. Ecco, d'accordo. È la brava performer. Sì, sicuramente. Però il senso non è che è tutta questa profonda. Che ricordiamoci, comunque, Angelina Mango ha fatto anche lei il cosplay di Slave for You di Britney Spears, con questo boh a mezzo verde che non c'aveva, però si vedeva il verde. E soprattutto ci ha anche dato un po' più di stimolo a livello visivo riguardo la parte fashion, perché almeno lei ha un po' attenzione. Sì, sì. Tre secondi per farti passare l'ovulazione per Mr. Rain. Chi vince? Il tre. Amo, e come dice il tre, io rimango fermo a guardarti per ore. Il tre però agosto. Su, Amo, l'hai detto giusto? Abbiamo già detto. Eh, vaga. Nel senso, Alfa si chiamerà così, ma noi siamo bimbe di Baby K e siamo femmine Alfa, ti posso dire? Io non vedo l'ora di essere qui domani con... Adoro, esatto. ...quindici cantanti, anziché trenta. Sì, si esibiranno solo quindici e gli altri quindici a quanto pare presenteranno i concorrenti. Almeno questo è quello che ho letto pochi minuti fa. Ma ti prego. Vediamo che succia. La co-conduttrice sarà Giorgia, quindi sono felicissimo di questo, canterà, seremo tutti felici. E niente, raga, io sono emozionato, però è anche il momento di andare a dormire. Sì, anche perché è abbastanza stanghino, noi siamo sempre qui. Mille messaggi, mille baci. Raga, alla prossima puntata della KMES. Seguiteci, seguiteci. Domani. Ci vediamo domani. Bye. Mua.